Musica Schianto tra un'auto e un pick up a Borgo Santa Maria Pesaro Anziano batte la testa e muore, ferita una ragazza del posto Rimane con la gamba incastrata nelle lame della moto zappa Anziano trasportato in eleambulanza al torrette di Ancona Incendio in un bosco a Monte Copiolo a fuoco 3000 metri quadrati di sterpaglie E messe in sicurezza una casa e una pineta Il caso del TSO al 18enne del Battisti Su Fano TV parla il costituzionalista Lamberto Roberti Ecco come l'ho conosciuto, con i genitori i rapporti sono buoni Entra in un ristorante di Umberto Carriera per rubare la cassa Ladro colto con le mani nel sacco e arrestato dalla polizia Gli studenti delle superiori scendono in campo per esprimere solidarietà Ai giovani aggrediti dal branco alla rocca malatessiana di Fano Presentata l'edizione estiva del Carnevale di Fano Si svolgerà ad agosto in Sassonia in città senza lancio di dolciumi Con i carri nuovi, fermi e di fronte alla platea Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con il tragico incidente accaduto questa mattina a Borgo Santa Maria a Pesaro dove ha perso la vita un anziano del posto di 87 anni Due i veicoli coinvolti nel sinistro Un pick-up Fiat Fiorino guidato dalla vittima e una Fiat 500 con a bordo una pesarese di 28 anni L'incidente si è verificato intorno alle 10 dopo una curva in via Lancisi Da una prima ricostruzione della dinamica al vaglio della polizia locale di Pian del Bruscolo L'uomo stava provenendo da bordo strada, da un'area privata e nell'immettersi sulla strada provinciale 38 si è scontrato con l'autovettura proveniente da Tavuglia e diretta verso Borgo Santa Maria Immediati soccorsi da parte del 118 ma l'uomo che nell'urto ha battuto violentemente la testa purtroppo è morto poco dopo mentre la ragazza che è rimasta ferita è stata affidata alle cure dei sanitari A Fano invece si è verificato un grave incidente agricolo è successo questa mattina alle 10.15 in via Fattori nella zona della Trave un anziano di 84 anni per cause in fase di accertamento è rimasto incastrato con una gamba nelle lame della sua moto zappa mentre era intento a lavorare il campo adiacente all'abitazione La squadra dei vigili del fuoco di Fano con l'ausilio dei sanitari del 118 ha estratto la gamba dell'uomo dalle lame con delle attrezzature specifiche poi l'anziano è stato trasportato con l'eliambulanza al pronto soccorso della torrette di Ancona i pompieri inoltre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento sul posto anche la Polizia di Stato Ed ora torniamo a parlare del caso del trattamento sanitario obbligatorio disposto per il giovane 18enne del Battisti oggi Angelica Panzeri ha intervistato il costituzionalista Lamberto Roberti che ci racconta del ragazzo ma anche del rapporto con i suoi genitori Siamo qui a Santa Veneranda in via Bonini ci troviamo di fronte allo studio del dottor Lamberto Roberti del costituzionalista così lui si definisce siamo andati a sentire cosa ne pensa a proposito della vicenda del ragazzo sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio Arriviamo nel suo studio e troviamo la chiave sulla porta questa è la casa della Costituzione dichiara di fronte alle telecamere di Fano TV siete i benvenuti il giurista Lamberto Roberti conosciuto anche per essere un chiaro attivista no mask ci fa accomodare è lui l'uomo dietro le quinte collegato in qualche modo alla vicenda del ragazzo fanese sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio Lamberti conosce bene il giovane che più volte ha ospitato dentro casa sua durante gli incontri dedicati alla Costituzione diciamo che per questo ragazzo ero il costituzionalista perché io ho qui tutti i sabati per mesi ho fatto conversazioni sulla Costituzione al mattino alle 10 e il pomeriggio alle 16 di tutti i sabati per tutte le persone del gruppo lui veniva però in libertà stava a pranzo con me quindi proprio argomentava quando ho conosciuto il ragazzo? il 6 febbraio noi abbiamo avuto una manifestazione davanti al teatro Rossini e lì è arrivato questo ragazzo in bicicletta aveva fatto una ventina di chilometri e quindi con il saccappello fra l'altro era freddo ancora c'erano gelate il 6 febbraio e lui avrebbe stava chiedendo dove era il parco Miralfiori per dormire all'agghiaccio praticamente nel saccappello ci siamo guardati un po' con noi un po' i responsabili e alla fine è deciso va bene io siccome per normalità la mia normalità è ospitare io anche in questo momento ho due ospiti homeless persone che non hanno un luogo dove dormire per me è naturale è normale infatti questo ragazzo mise in macchina la bicicletta e poi siamo venuti qui ha steso il sacco a pelo sopra il letto matrimoniale dell'altra stanza e lì ha dormito lei in questo momento in che rapporto è con il ragazzo e con i suoi genitori e che idea si è fatto sulla vicenda è stato accusato di averlo pragiato con le sue teorie negazioniste dove sta la verità? io non sono un negazionista sono un giurista con il ragazzo ho sempre avuto un ottimo rapporto un bravissimo nipote ne ho uno di 22 anni e lui ne aveva 18 e veniva ma mi faceva non aveva meno di 10 domande ogni volta che veniva era un ragazzo che chiede in continuazione uno spirito libero e intelligente in particolare cercava di risolvere questo problema dell'obbligo della mascherina a scuola quando ricevette questa DAD obbligatoria perché non voleva portare la mascherina io lo consigliai di fare un'attività un'istanza al giudice tutelare per il ripristino delle sue libertà fondamentali e così fece impiegò 15-20 giorni per studiare il tutto è vero che la madre del ragazzo le ha detto il chiese o dovevano farlo a lei e gli hanno chiesto i genitori di allontanarsi dal ragazzo è vero? sì è vero ma dobbiamo prendere questa notizia come carpita da qualche cosa di così interno non era anche quando in queste telefonate così amichevole con la madre era un po' una battuta ecco così perché poi abbiamo in modo cattivo abbiamo parlato un quarto d'ora di queste cose ma sì dovevamo farlo a te il TSO abbiamo riso abbiamo riso quindi lei con i genitori ha in ottimi rapporti in questo momento? non so in ottimi forse no ma in buoni sì nel senso che ci siamo sentiti anche ieri quindi sono stati qui da me giornate intere perché io chiesi dopo aver conosciuto il ragazzo per un mese dopo che facemmo anche questi atti una certa fragilità l'avevo sono anche un mediatore familiare e ho chiesto dei genitori dopo alcune volte ecco sono si sono presentati abbiamo conosciuto fino alle serle 10 tutta la giornata così più volte Vigili del Fuoco in azione in via Moneta nel comune di Monte Copiolo in provincia di Pesero Urbino per l'incendio di un bosco la squadra di Macerata Feltre intervenuta con tre autobotti e un mezzo 4x4 è riuscita a spegnere il rogo che si è sviluppato in un terreno di circa 3.000 metri quadrati di sterpaglie è stata messa in sicurezza un'abitazione ma anche una pineta adiacente alla casa un lavoro non semplice per i pompieri anche per il forte vento invece i Vigili del Fuoco di Fanno sono intervenuti in un condominio di via Damiano Chiesa nel comune di Mondolfo a causa del distacco di parti del cornicione di un terrazzo è stato sorpreso con la cassa tra le mani il ladro che la notte scorsa è stato arrestato all'interno del ristorante alla macelleria Pesero stava cercando di rubare i soldi del fondo cassa circa 200 euro ma non ce l'ha fatta la polizia è arrivata nel noto ristorante di Umberto Carriera alla macelleria in via delle Galigarie a Pesero attorno alle tre e mezza di questa notte e ha colto il ladro in flagranza mentre stava compiendo il furto l'uomo un extra comunitario aveva provato a giustificarsi dicendo alla polizia di essere entrato nel locale trovato aperto per usufruire di un riparo per dormire ma il malvivente era adagiato sul pavimento alle prese con il registratore di cassa di cui aveva già tagliato i fili il ladro è finito in manette solo un po' di spavento per i titolari Umberto Carriera e Michele Tagliabracci che non hanno subito alcun danno al locale se non quello della stessa cassa che è stata danneggiata il ristorante questa sera è ripartito col servizio abbiamo trovato tutto in ordine tranne come ho detto prima la cassa però ecco fortunatamente la polizia è stata subito è venuta subito all'interno del locale trovando comunque sia il ladro quindi non ha fatto niente di grave a livello dell'interno del locale però logicamente il danno alla cassa è stato fatto tagliando fili perché portando via comunque sia il nostro fondo cassa ho sporto venuto questa mattina e sono appena tornato dalla questura ho fatto la denuncia e adesso vedremo come avverrà la situazione sicuramente la polizia farà il suo corso e ci sarà una direttissima ecco ora ripartirete con il servizio come si evolverà la situazione? sì partiremo con il servizio perché se non partiamo in questo momento è meglio partire perché comunque dopo sette mesi che siamo fermi logicamente anche quel poco che facciamo è meglio farlo e quindi faremo subito stasera ci mettiamo subito all'opera per sistemare la cassa il registro di cassa e aspettiamo stasera i nostri clienti ecco anche la prossima settimana le marche saranno in fascia gialla lo ha annunciato sul suo profilo facebook il governatore Francesco Acquaroli oggi pomeriggio dopo il consueto monitoraggio del venerdì al ministero della salute sono state comunicate le decisioni ai presidenti di regione l'indice RT delle marche continua a salire ma rimane al di sotto della quota 1 nelle ultime 24 ore sono morte due persone con il coronavirus i nuovi positivi sono 252 di cui 65 nella provincia pesarese che è seguita da quella di Ascoli Piceno con 62 casi invece il totale di ricoveri scenda 328 con 8 persone in meno rispetto a ieri ma mentre il dato dei pazienti in terapia intensiva rimane invariato i degenti in semi intensiva scendono a 92 e domani alle ore 12 verranno aperte le prenotazioni dei vaccini per la fascia di età 50-59 la somministrazione partirà da lunedì 17 maggio mercoledì 19 sarà la volta della fascia 40-49 saranno aperti gli slot di prenotazione ma l'inizio della somministrazione del vaccino è prevista per la fine di giugno entro il 25 maggio poi saranno vaccinati tutti i caregiver che si sono prenotati torniamo a Fano dove gli studenti delle scuole superiori oggi sono scesi in campo per esprimere solidarità verso i giovani che sono stati aggrediti dal branco alla Rocca Malatestiana di Fano il servizio di Filippo Pucci un incontro per parlare con i giovani su ciò che è avvenuto lo scorso fine settimana alla Rocca Malatestiana un confronto con alcuni studenti provenienti dai vari istituti scolastici fanesi che hanno detto la loro riguardo l'aggressione subita da due ragazzi da un gruppo di 20 persone promotore di questa iniziativa l'assessore Barbara Brunori che ha voluto dar voce direttamente ai giovani uno dei punti che abbiamo analizzato tutti insieme è la gentilezza che ci aiuta a crescere perché è un valore sociale che in maniera pratica un esempio pratico è quello del volontariato che fa crescere noi all'interno però aiutiamo anche il prossimo e secondo me è una cosa molto importante che i giovani d'oggi dovrebbero cominciare a fare siamo qui come giovani di Fano oltre perché per prendere le distanze da quel che è successo per mandare un messaggio affinché tutti si sentano liberi di esprimersi come meglio credono c'è stata una narrazione falsa sulla città e sui giovani di Fano per cui quel che è diverso viene visto male e questa è una cosa è un'idea diffusa in realtà non è così noi giovani siamo diversi e siamo qui proprio per portare questi concetti lo spirito di questo incontro era come abbiamo già detto far capire alle vittime innanzitutto che gli siamo vicini che siamo vicini a tutte quelle persone che subiscono questo tipo di questo tipo di di violenza si può dire anche che non denunciano questo tipo di violenza ma soprattutto appunto mostrarci aperti del tutto il più possibile disponibili aiutare a chi commette questo tipo di atti a capire quello che effettivamente stanno facendo perché io sono convinta che la maggior parte delle persone che commettono questi atti di violenza non si rendano conto di quello che fanno veramente quindi sì siamo siamo qui appunto per fare una specie di 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 chiamata alle armi alle armi però della pace perché se non è giusto neanche andare a venire qui e dire ascoltate quello che stiamo dicendo perché noi siamo nel giusto è giusto semplicemente noi siamo qui per sollevare un problema non per portare una una soluzione quindi già se viene sollevato un problema finché se ne parla si può si può sempre risolvere per me la maggior parte del del lavoro della creazione di una persona viene dal dibattito e come ho detto infatti la scuola non è per forza il luogo adatto per tutti c'è gente che magari le evita per motivi personali quindi il dibattito fra i ragazzi che alla fine è quello che ci crea il dibattito e non dobbiamo andare verso una polarizzazione magari cerchi solo le persone che ti sono più simili può formarti in diventare una persona migliore in compagnia delle più gli altri per questo gli spazi pubblici come la Rocca ho detto il Passione Sangallo sono fondamentali ma anche un nuovo posto sarebbe bellissimo in cui far parlare ragazze in modo che questi eventi non accadano più non attraverso l'esclusione di coloro che li commettono ma l'inclusione di tutti per far diventare tutti persone migliori ho voluto fortemente creare questa iniziativa oggi con i giovani proprio perché di solito quando avvengono dei fatti in città i giovani non entrano mai in dibattito non entrano perché non hanno gli strumenti non entrano perché a volte sono inibiti e altre volte proprio perché hanno paura di non avere uno spazio ecco io oggi voglio essere il loro strumento voglio dar voce alle loro necessità voglio iniziare con loro a raccontare tutto quello che mi hanno raccontato in questi giorni che a gran voce mi chiedono facciamo la pace questa frase ci deve far riflettere ci deve far riflettere perché loro hanno delle nuove necessità vogliono fare della loro esistenza una narrazione al positivo perché non è solo quello che succede con il clamore mediatico che inevitabilmente trasforma anche la vita che gli appartiene loro sono tanto altro e questa è un'occasione per raccontarsi dopo le polemiche di residenti e operatori sui parcheggi a pagamento a Lido e alla Sassonia di Fano ieri la Giunta ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per valutare insieme ad Aset costi, orari e convenzioni per trovare ha riferito l'assessore Tonelli la soluzione migliore per tutti ma visto quanto accaduto oggi la Lega ha chiesto le immediate dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici per manifesta incapacità ad amministrare settore a lei affidato un'improvvisazione di questa portata hanno scritto i consiglieri in una nota non si era mai vista in città il dietrofront parziale senza nemmeno aver avvisato il presidente di Aset Paolo Reginelli è l'ennesima beffa nei confronti delle attività economiche e dei residenti del lungomare gli ultimi ad essere colpiti proseguono i consiglieri senza minimamente essere coinvolti nel processo decisionale Fano e i fanesi conclude la Lega non meritano un assessore che cambia idea dalla sera alla mattina e si inventa idee ecologiste a giorni alterni a causa dell'incidente avvenuto mercoledì scorso a Marotta nel quale un autocarro di 35 quintali si era incastrato nel sottopasso delle Rane è stata emessa un'ordinanza con la quale si dispone che da oggi e fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza in questo sottopasso che collega via Damiano Chiesa alla strada statale 16 è previsto il restringimento a sinistra della carreggiata e il divieto di sosta permanente a Fano invece sono stati ultimati i lavori connessi alle opere compensative alla terza corsia della 14 che collegano via Roma a Belgatto inizialmente ricorda il vice sindaco Fanesi la data di conclusione era prevista per il 30 aprile ma a causa della quarantena di alcuni operai della ditta incaricata da società autostrade le operazioni per installare le barriere fonoassorbenti e di sicurezza sono terminate questa mattina pertanto il cantiere è stato smantellato e la strada è stata riaperta ci sarà anche il carnevale quest'anno nell'estate fanese si svolgerà in quattro date nel centro storico e in Sassonia i carri saranno dedicati a Dante Alighieri ma rimarranno fermi in diversi punti della città nel prossimo servizio vi faremo ascoltare tutte le novità della prossima edizione non vedremo i giganti di cartapesta a sfilare in Viale Granci e nemmeno i quintali di dolciumi lanciati sulla folla quello che non cambierà però sarà lo spirito dell'iniziativa un mix tra cultura folklore e divertimento si chiamerà Estatico il carnevale di Fano in programma negli ultimi due fine settimana di agosto questa mattina nella sala della Concordia è stata presentata l'edizione estiva dedicata a Dante Alighieri con le tante novità anche legate alla pandemia ad ogni modo nonostante il periodo delicato anche dal punto di vista economico nessuno degli sponsor ha diminuito il contributo e fatto mancare il proprio sostegno dunque il carnevale è statico è statico perché è in estate perché è estasiato e perché sarà in forma statica questo ce lo impone ovviamente il periodo storico però non mancherà nessun ingrediente del carnevale anche se volutamente abbiamo deciso in un'edizione più sobria meno ridanciana questo per rispetto comunque a chi ancora soffre e quindi ci saranno tutti gli ingredienti del carnevale però insomma pensiamo che sia giusto mantenere una sorta di rispetto quest'anno non mancheranno eventi collaterali e spettacoli artistici che si alterneranno sui carri allegorici oggi maestri carristi Luca Vassilici Matteo Angherà e Mauro Chiappa hanno presentato i loro bozzetti che sono stati più votati dal consiglio direttivo dell'ente carnevalesca insieme all'assessore Etil Lucarelli tre dunque i carri di prima categoria che saranno i protagonisti insieme a quello del comune di Gradara e a Carnevale di Fanostori una sorta di galleria d'arte itinerante dedicata alla storia dei giganti della manifestazione abbiamo due importanti collaborazioni non poteva mancare il comune di Gradara che finanzierà un carro di seconda categoria ovviamente su Paolo e Francesca i loro maestri carristi perché anche Gradara ha un piccolo carnevale stanno venendo ai nostri capannoni e stanno collaborando con i nostri maestri carristi per costruire il loro carro e un'altra importante collaborazione è con liceo Nolfi Apolloni con cui ovviamente collaboriamo da tanti anni hanno realizzato un bozzetto sul nostro Jacopo del Cassero e su alcune peculiarità della nostra città ed ecco le date sabato 21 e domenica 22 agosto il Carnevale si svolgerà in Sassonia i carri saranno posizionati frontalmente per creare spazio per la platea fanesi e turisti potranno assistere agli spettacoli nel rispetto delle norme anti-covid e lasciando all'ingresso il nominativo sabato 28 poi la manifestazione si sposterà in centro storico con una grande caccia al tesoro mentre domenica 29 si ripeterà la stessa formula già adottata in Sassonia coinvolgendo in questo caso il Pincio le piazze e la zona del Pinobar è molto importante mantenere anche in questo periodo così difficile in moto la macchina del Carnevale e lo abbiamo fatto realizzando un Carnevale statico in centro storico e nella zona mare e quindi facendo ricadere le attività sulle economie della città questo è l'obiettivo che ci siamo posti e ovviamente non ci sarà il lancio dei dolciumi proprio per questioni sanitarie insomma penso che sia abbastanza scontato questo è comprensibile ma stiamo lavorando per una per una collaborazione comunque con una una grande azienda per fare in modo che anche quest'anno il Carnevale sia il più dolce d'Italia e adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Maria Musca di Cantiano in provincia di Pesaro Rubino che oggi compie 100 anni auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV e prima di chiudere vi ricordo che lunedì prossimo l'ospite di Primo Cittadino sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli tra poco invece trasmetteremo uno speciale sul programma di sviluppo rurale delle Marche che si è tenuto a Monbaroccio subito dopo l'ultima puntata di esplorare i confini sul Monte Nerone con Loretta Stella grazie per la vostra attenzione e l'informazione torna domani mattina con la Rassegna Stampa arrivederci che si è un'unica grazie a tutti i nostri amici